Pioggia di finanziamenti in arrivo al Sud per potenziare la ricerca scientifica, l'investimento chiave per il futuro. Nei prossimi sette anni si dovranno trasformare in progetti 6,3 miliardi di euro stanziati dal Ministero, in gran parte destinati alle aree svantaggiate. Il pacchetto europeo invece stanzierà 30 miliardi di euro con una corsia privilegiata per le aree dell'obiettivo 1, tra cui la Puglia. Gli Atenei regionali si stanno preparando alla sfida, così come emerso dalla tre giorni sulla ricerca. Il tema dell'ambiente, l'energia, della salute sono gli assi prioritari su cui ovviamente intervenire, ma questi sono assi che coinvolgono un po' tutto il mondo nel sapere perché le competenze sono trasversali e devono essere immesse in un progetto forte di sviluppo del nostro territorio. Tra gli aspetti da migliorare la qualità dei brevetti, gli spin-off e le sinergie tra università, sistema di impresa e denti locali a partire dalla regione. Creare una internazionalizzazione della ricerca anche nelle nostre sedi, una mobilità dei ricercatori e anche gli investimenti ovviamente dei progetti europei che possono costituire una fonte formidabile di crescita non solo per l'università ma anche ovviamente per il sociale e per la regione.